Questo video riguarda i migliori 3 massaggiatore occhi. Il vincitore della qualità è il Renfo Massaggiatore. Renfo Massaggiatore per gli occhi adotta impastamento, stimola i punti terapia, pressione oscillante e massaggio a percussione ritmica. I cuscinetti riscaldanti incorporati forniscono una temperatura confortevole tra i 40 grado Celsius meno 42 grado Celsius. Il telecomando rende più facile cambiare la modalità e il funzionamento in base alle tue necessità. I cuscinetti riscaldanti integrati forniscono una temperatura confortevole di 104, migliore per alleviare l'affaticamento degli occhi, gonfiore degli occhi, secchezza oculare, ecc. Altoparlanti incorporati e suono pre-registrato. Oppure puoi persino riprodurre le tue playlist tramite il collegamento Bluetooth. Il massaggiatore elettrico per gli occhi può essere ripiegato in una custodia fornita, facilmente trasportabile in ufficio, in aereo, in viaggio. Inoltre, l'archetto può essere facilmente regolato. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Renfo Massaggiatore. Di recente progettazione, il massaggiatore per occhi Renfo adotta una tecnologia di pressione e rotazione a 360 gradi in base alle regole di distribuzione dei punti dell'agopuntura dettate dalla medicina tradizionale cinese. Esso simula il metodo del massaggio manuale, posizionando e manipolando accuratamente i punti dell'agopuntura uno per volta senza schiacciare i bulbi oculari. Il nostro massaggiatore per la cura degli occhi è dotato di cinque modalità di massaggio preimpostate. Il contatto della modalità ritmica vibrerà a ritmo di musica. Grazie a una finestra visiva e a un meccanismo di azionamento tramite un solo pulsante, sarà possibile rilassare gli occhi mentre ci si gode l'intrattenimento in modo più comodo. L'altoparlante integrato supporta la funzione di trasmissione vocale. È facile da azionare e la rilassante musica pre-registrata può amplificare la sensazione di rilassamento. Il vincitore del premio è il Renfo Massaggiatore. Il massaggiatore per gli occhi Renfo utilizza massaggio, punti d'innesco, pressione oscillante e massaggio a percussione. I cuscinetti riscaldanti al suo interno producono una temperatura confortevole tra 104 e 107 gradi. Massaggiatore per gli occhi Adotta una pressione oscillante e un massaggio ritmico a percussione, può rendere la pelle intorno agli occhi più lucida ed elastica. Indossalo per 15 minuti prima di andare a letto ogni sera, sarai totalmente rilassato e godrai di un dolce sogno migliore. Il nostro massaggiatore oculare può essere piegato diventando molto più piccolo, così da poter essere portato in ufficio, in aereo o in viaggio. Inoltre, la fascia è facilmente regolabile, adattandosi alle dimensioni di ragazzi e adulti. Gli altoparlanti integrati e l'audio pre-registrato migliorano il relax. Puoi anche riprodurre le tue playlist connettendoti tramite bluetooth. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.